... Oggi abbiamo sentito come persone informate sui tatti il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della Salute e il Ministro dell'Interno. Le audizioni si sono svolte in un clima di massima distensione e di massima collaborazione istituzionale e ora noi ce ne andiamo, grazie a quelle dichiarazioni che abbiamo avuto e a completare il nostro lavoro. Vi ringrazio tutti. Procuratrice, lei il 29 maggio aveva detto che la zona rossa era responsabilità di Roma, si pente di quelle dichiarazioni? No, io avevo dichiarato che dalle dichiarazioni che avevano in atto ci piaceva quella in quel momento, oggi non ho altro da aggiungere.